eccoci nuovamente al trend studio a milano per una nuova specialissima questa volta ripiccio perché non si parla solo d'arte ma in questo in questa volta si parla di creazioni originalissime non prima però di aver presentato le nostre due splendide modelle ai lati che sono elisa bassani e chiara uberti grazie lisa via grazie chiara e ma soprattutto grazie alla nostra stilista creatrice artista analisa giussani con la sua linea la l'inzi collection e i suoi stupendi ciondoli che sia chiara sia elisa e lei stessa hanno al col elisa raccontaci un po allora queste ultime so che sono veramente recentissime esatto con piacere vi presento un ciondolo sempre della linea il bestiario immaginario in questo caso è un soggetto personalmente dipinto quindi dipinto a mano dopodiché sempre con il mio concetto di cristalli e arricchimenti vari quindi si presenta bene un bel cameo abbastanza importante e al collo poi della chiara bellissimo e stessa cosa per quello che indossa elisa che è un ciondolo della linea flower che sono praticamente sempre partendo da una base grezza di tessuto il fiore viene ricamato personalmente a mano è rifinito questo è un ciondolo che in questo momento è portato a collo quindi corto ma in realtà è un ciondolo che si può portare anche più lungo so che elisa aveva una curiosità da chiederti su queste realizzazioni volevo sapere analisa se potevi dirci come avviene il processo di ideazione ispirazione delle tue creazioni bellissime grazie innanzitutto volentieri parto sempre da un'idea che mi parte dalla mente e la devo prima disegnare quindi poi quando l'ho disegnata vedo se realizzarla e lasciarla dipinta e arricchita diciamo solo ai lati oppure proprio creare lo stesso disegno ma in slow jewelry nel senso che è una gioielleria lenta proprio perché viene realizzata cucendo e ricamando pezzo per pezzo quindi è benissimo quindi io vi invidio tutti a seguire sui social grazie è molto seguita su instagram su facebook oppure se volete ulteriori info possiamo fare noi del team da tramite scrivendo a info.artestgroup.gmail.com e vive viva quindi analisa giussani e le sue fantastiche creazioni un grazie a chiara un grazie ad elisa e a presto grazie a voi viva il team artes come sempre grazie grazie grazie